Per me Circo la Mente è una famiglia, la compagnia. Questo non è un centro, è il paradiso che ha restituito dignità a mia madre. Io non ho l'Alzheimer, almeno credo, però frequento Circo la Mente per imparare come prevenirlo. Mia madre da quando c'è Circo la Mente ha cambiato carattere, prima era timida, adesso è diventata una chiacchierona. La stessa parola Circo la Mente ci ricorda solamente una cosa, bello, non ci ricordiamo di esserci stati, ma ogni volta che torniamo a casa è una magia, perché siamo contenti e felici e questo è fondamentale. Io frequento Circo la Mente perché altrimenti sarei solo a casa. Incontro gente con i miei problemi, meglio di me, peggio di me, ma andiamo bene d'accordo. È una bellissima comitiva, grazie di tutto. Io al Circo la Mente accompagno nonna e mi diverto un sacco. E Nicolás mi aiuta a ricordarmi le cose. Da due anni stiamo portando avanti a Macerata il progetto della Città Amica che offre opportunità alle persone con demenza e non solo di partecipare alle attività della comunità. Richiede la conoscenza, la collaborazione, il confronto, la comprensione con l'obiettivo di costruire una comunità a misura di tutti, nessuno escluso. Circo la Mente è il luogo simbolo della Città Amica, un luogo aperto dove stimolare la mente e giocare a carte e vedere un film o leggere un libro. Un luogo dove condividere sorrisi, abbracci e sguardi. Circo la Mente non è un diurno, non è neanche un posto dove vanno le persone con demenza. È un luogo aperto a tutti, è il cuore della Città Amica. È proprio uno spazio aperto dove chiunque si può incontrare semplicemente per il gusto di stare insieme. Da circa tre mesi il locale di Circo la Mente non è più agibile, abbiamo continuato lo stesso a vederci in location diverse. Ora ci è stato donato un locale di 200 metri quadri che va ristrutturato e per questo ci serve il tuo aiuto. I fondi raccolti serviranno a strutturare ed arredare Circo la Mente in modo da avere diversi ambienti per organizzare tutte le attività previste dalla ginnastica di gruppo alla formazione. Diventando più emotivi e meno cognitivi, noi ricorderemo il modo in cui ci parlate, non quello che ci dite. Conosciamo i sentimenti, ma non la trama. Il vostro sorriso, la vostra risata, il vostro tocco. Sono le cose con cui noi possiamo entrare relazioni. L'empatia è la cura. L'empatia è la cura. Amateci per come siamo. Siamo ancora qui con le nostre emozioni e il nostro spinto. Se solo riuscite a trovarci. Amateci sicuramente, noi ci troviamo. Aiutaci a costruirlo insieme a noi. Grazie